ciao a tutti benvenuti a casa ambra il nostro consueto ormai imperdibile appuntamento del venerdì saluto tutti i ragazzi che ci stanno seguendo tutti i nostri clienti amici i nostri fans che ci stanno seguendo e oggi volevamo salutarvi con un saluto speciale però prima di salutarvi con questo saluto speciale mi manca il mio braccio destro mi manca il mio pezzo che come al solito è tutti i venerdì a ritardo l'uomo più ritardo del mondo ecco ti ciao fede un giorno buongiorno a tutti che è questo e cosa festeggi che le cose gli anni un anno ieri era un anno che ambra preso in gestione il negozio degli amazzini già è vero è compiere un anno di essere sempre in forma per diciamo che bisogna esprimere un desiderio seguiamo in diretta finire sia accesa è già un anno ringraziamo tutti i nostri clienti che veramente ci hanno permesso di essere qua e grazie 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 a tutti e adesso diciamo che si può spedire la candelina tu dici esatto vai sei pronto col desiderio uno via buon coperno ma di questo va bene appoggiamo qua certo appoggia la tua candelina anche se oddio è bello della diretta vabbè aspettiamo dai non ti mangiare subito il biscotto fede e dopo dopo facciamo il biscotto infatti visto che c'è questo bellissimo compleanno di casa ambra ok di casa ambra di vodafone via mazzini diciamo sul nostro sulla nostra pagina facebook c'è questo voucher da scaricare ok vi collegate sulla pagina cliccate il link del voucher ve lo scaricate vi arriva direttamente sulla mail così ce lo potete vedere il negozio il voucher fino a domenica 5 luglio vi permette di avere tantissime scontistiche per i clienti vodafone per nuovi clienti che regaliamo il primo mese il 20 per cento di sconto sugli accessori escluso le cuffiette tutto è limitato per un mese tutti i clienti vodafone quindi venite in negozio con il voucher stampato oppure anche sul cellulare va benissimo ce lo fate vedere e così avrete un sacco di sorprese per festeggiare questo compleanno era giusto giusto festeggiare ok perché allora in casa ambra se è venuta nel tempo prima facciamo solo noi ma abbiamo spiegato poi prendono quindi samsung wowi xiaomi xiaomi quindi con questo venerdì iniziamo a far conoscere un po il nostro staff perché non vediamo tantissimo sempre esatto e proprio grazie al nostro staff vede che possiamo festeggiare tutti questi compleanni esatto quindi diciamo che iniziamo questa nuova avventura di casa ambra ospitando emanuele chi è emanuele emanuele è il business come si dice in inglese specialist grazie business specialist è il nostro business specialist mi sposta e mi sposta così ciao emanuele ecco ti qua benvenuto e spostiamo tequila spizza e spostiamo tequila spizza anche se lo facciamo se lo facciamo quindi auguri ad ambra e auguri ad ambra via mazzini che con un anno fede un anno già passato un anno veramente mi sono passati di tutti con un ritorno però siamo qua per festeggiare questo esatto esatto quindi chi è meglio di parlare con manuele che veramente di ambra il specialista il maestro del business e altro in italiano e manuele ovviamente perfetto per la prima e manuele per farla molto semplice io ho la parte italiana sì certo quindi la parte IVA vorrei avere qualche delucitazione qualche informazione sul mondo vodafone per la parte IVA cosa faccio? vado in negozio e lì trovo qualcuno devo prendere appuntamento devo aspettare quel specialista che gli altri non sanno cioè come mi devo comportare? guarda fede la cosa bella di ambra in primis che ci tengo a specificare è che entrando nei negozi vodafone di ambra troverai sempre delle persone qualificate competenti ma soprattutto troverai dei consulenti che avranno sempre la soluzione migliore e ti troveranno sempre la soluzione migliore per la tua azienda ma soprattutto per il tuo business quindi arrivo trovo un ragazzo e posso parlare direttamente con lui certamente ma sicurissimo inoltre con noi hai la possibilità se sei impegnato se sei pieno di lavoro abbiamo orari flessibili e possiamo fissare appuntamento direttamente nella tua azienda in qualunque giorno della settimana tanto è vero che con noi fede troverai sempre assistenza sette giorni su sette quindi se io non riesco a muovermi perché con il lavoro adesso riparto tutto quindi sono super impegnato io chiamo un numero ma che numero chiamo? ecco la velina ecco il nostro numero ok potete chiamare questo numero risponde la nostra Martina che vi chisserà l'appuntamento con Emanuele comunque lo trovate sui nostri social sul nostro sito internet che è www.vodafonambra.it dove oltre ad essere comunque sempre aggiornati con tutte le soluzioni business eccetera trovate anche tutti i nostri indirizzi il nostro numero di telefono quindi social pagine facebook instagram e quant'altro quindi ora chiamo questo numero qui mi risponde Martina e quindi posso anche avere cioè neanche muovermi dalla mia azienda e venire direttamente per voi posso venire direttamente io presso l'azienda quindi qualunque giorno senza nessun problema e possiamo parlare di tutte le soluzioni migliori che Vodafone nel business propone per tutti i suoi clienti esatto comodissimo veramente ma quindi allora se io ho bisogno di una rete fissa di un cellulare di un apparecchio ma anche di qualcosa di un po' più evoluto cioè nel senso che sì adesso se hai il business hai visto quello che è successo si sta spostando molto su a livello di videochiamate con i colleghi di ormai è diverso da quello che succedeva due o tre mesi fa quindi potete darmi una mano anche su quello perché purtroppo non è che ne capisca molto certo fede perché Vodafone ha sempre tutte le soluzioni e guarda sempre verso il futuro quindi soprattutto in questo momento con tutto quello che è successo per il coronavirus eccetera guardiamo a come poter migliorare il business del cliente quindi non parleremo più solo della DSL e delle ma abbiamo tante soluzioni digitali personalizzate proprio per la tipologia di lavoro che fa un'azienda quindi avremo soluzioni per i ristoranti soluzioni per gli alberghi soluzioni per tutte le aziende anche ad esempio metallurgiche quindi anche aziende diciamo con un certo spessore fede quindi aziende anche grandi quindi noi teniamo in considerazione dal piccolo imprenditore fino alla grande azienda siamo disponibili per tutti quindi Manu noi abbiamo delle risposte cioè gestiamo il cliente da per ogni singolo settore cioè la gestione del cliente è diversa in base comunque all'azienda alle esigenze al settore cioè ovvio che un cliente che magari ha un ristorante ha delle diverse esigenze da un cliente che magari non so si occupa è una dita individuale ovviamente ma infatti il nostro lavoro non è il nostro lavoro è quello di fare la miglior consulenza proprio per aiutare a crescere l'azienda quindi aiutare il cliente business ad avere sempre nuovi strumenti per sviluppare il proprio lavoro quindi a proporre i nuovi scenari e nuovi strumenti per essere sempre al passo coi tempi ma soprattutto cose importanti in questo momento a fidelizzare i propri clienti perché con le nostre soluzioni digitali di Vodafone aiutiamo il cliente a fidelizzare e questo ragazzi al giorno d'oggi è importantissimo guarda Emanuele c'è una nostra offer ma è fissa che c'è Emanuele ciao Emanuele esatto che magari potremo anche lei il tuo omonimo esatto chiede ma quindi anche potresti venire a casa sua anche la domenica aperitivo con le amiche aperitivo con le amiche con uno spizze arrivo anche guarda in tutta Italia se vuoi Emanuele ti accompagna anche in camera di commercio esatto direttamente con valigente penna già pronta ah perfetto secondo me dopo la diretta di oggi Emanuele aveva presso la partita IVA per avere Emanuele e dopo c'è anche da dire che Ambra segue il cliente in tutto e per tutto anche una volta uscito dalla porta giusto Emanuele? esattamente ti amo infatti il nostro lavoro non è solo quello di aiutare il cliente a trovare la soluzione ma poi è anche seguirlo nel tempo per tutti gli scenari che poi può avere un'azienda quindi sviluppare aiutare e seguire il proprio business certo infatti c'è sempre anche la nostra Martina diciamo che segue anche dopo un mese dopo due mesi vi chiama anche per sapere se va tutto bene insomma quindi seguiamo il cliente anche in una post vendita esattamente e è un servizio che comunque non c'era nessuno perché sinceramente al giorno d'oggi bisogna avere un post vendita comunque è tanta roba bene credo che hai fatto brecciare il cuore a zia Emanuela quindi sono molto molto felice di questa cosa qua vado io Fede perché allora Alessandro ci chiede quindi posso avere una consulenza continuativa che mi aiuta a sviluppare il mio business certo proprio perché noi non ci fermiamo solo alla vendita ma aiutiamo cioè la nostra missione è proprio quella di aiutare il cliente business a stare sempre a passo coi tempi a trovare sempre delle soluzioni migliori e più performanti proprio per aumentare il proprio business esatto anche perché abbiamo visto tutti a maggior ragione di quel periodo che comunque abbiamo passato del covid tantissime aziende in fase di 2, 3, 5, 6 mesi sono evolute o comunque hanno avuto bisogno di altre esigenze comunque tantissime smart working o piuttosto che quindi ci stiamo sempre dietro anche in un post vendita il cliente comunque viene sempre ricontattato giustamente anche da Emanuele comunque dai nostri ragazzi quindi state tranquilli che abbiamo sempre un contatto costante col cliente proprio perché ci vogliamo assicurare che sia il cliente venga seguito proprio dalla A alla Z ovvero dal momento dell'attivazione fino alla post attivazione ma anche negli scenari futuri questo perché ci piace comunque passano in termine coccolare e poi si spagna e si ingrandisce esatto allora Simone ha una domanda ma quindi se ho delle fatture alte Emanuele puoi aiutarmi a migliorare le mie offerte e di costi che supporta la mia azienda? assolutamente e qua ci tengo a specificare che la nostra consulenza è del tutto gratuita quindi il cliente può richiedere sia un preventivo ma anche una consulenza per guardare le fatture sia presso la sua azienda che presso nei nostri punti vendita e tutto questo è gratuito un'offerta libera eh? fa benissimo cappuccino e preosti a partita eh? a mattina bicchier d'acqua magari come rischio quando c'è caldo ok Elisabetta ci chiede invece e se sono già un cliente business? nessun problema ma se anche se anche business cioè se io sono cliente business Vodafone ok ma sono un segnato operatore posso passare giusto? assolutamente noi abbiamo tutto uguale certamente noi abbiamo delle offerte dedicate proprio per chi viene da altri operatori ma soprattutto ci piace aiutare e sviluppare proprio già i nostri clienti Vodafone con business quindi abbiamo delle soluzioni interessanti anche per chi è già nostro cliente beh direi un servizio proprio completo quindi bene bene una figura di riferimento di una struttura che anche poi sul bisogno c'è sempre c'è nel rivolto sui telefoni quindi comunque per affidamento a questa struttura cosa veramente vale e vedete domani va presto la partita iva perché tra monopatio ma no non è un po' di te esatto io e se Emanuella prima andiamo a capire la partita poi veniamo a fare aperitivo con le amiche domenica eh ci avete solo per la settimana per la programma esatto l'obbligativa anche perché comunque Emanuella Emanuele vive vicino da te quindi adesso io non lo so però diciamo che sei vicino a San Benedetto Poi siamo vicini diciamo che un appuntamento lo possiamo fare dai aperitivo lo facciamo volentieri Emanuella senza restrizione stessa regione eh quindi si può andare lì sì quindi tranquilli ottimo beh hai fatto proprio bene invitare oggi Emanuele sai diciamo che adesso inizieremo a far conoscere tutto il nostro staff perché siamo in tanti tutti per voi nel senso che siamo a vostra disposizione per seguire il miglior dei modi in tutto quello che serve perché alla fine la telefonia è un po' il fulco della vita l'internet delle cose lì non è un oggetto che abbiamo sempre con noi che se in un funzione ci sentiamo persi quindi neanche un mondo complicato e comunque avere delle figure che possono dare una mano e non è scontato veramente una cosa di tutti bene ottimo direi che per questo venerdì con il nostro staff comunque rimanete collegati perché ogni venerdì tra i vari vendor che presenteremo eccetera eccetera abbiamo deciso di farvi conoscere tutto lo staff di Ambra che è un pianino venerdì prossimo abbiamo ancora abbiamo ancora chi abbiamo? che bravo che bravo sto imparando eh quante settimane prossime abbiamo la seconda puntata di Huawei con altre novità esatto poi magari venerdì prossimo conosceremo altre persone del nostro staff veramente io ricordo il nostro numero di telefono staccate questo qua da chiamare e risponde mattina si mette bene a fuoco e faccio un balletto eccolo qua fai il balletto esatto esatto e adesso direi che si potrebbe anche riaccendere la candela e fare un piccolo festeggiamento lo sapete direi volentieri beh ma però Fede io guarda batto la tua candelina eh ma eh sicuramente guarda cosa abbiamo portato mamma mia tutti per noi è ci dispiace noi siamo dirette quindi ma eh abbiamo anche la bottiglietta eh mamma mia abbiamo su anche il calabicino allora visto che oggi abbiamo l'ospite eh l'onore a lui di aprire una bottiglia esatto esatto adesso mi odia così festeggiamo il coplano di Andra ringraziando tutti i nostri clienti veramente che ci permettono di essere qua veramente grazie 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 ringraziando tutto lo staff di Andra che ci permette di essere qua veramente grazie a tutti e adesso direi che questo stupendo abbiamo questa bottiglia fumante qua adesso guarda che lui mi lavi eh è un po' si è un po' arruggito si vai vai col botto vai 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 uuuh buon compagno si spegniamo la candelina sei per conto la ravesce 3 2 1 eeeh vai col botto vai 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 uuuhè che bravo la posizione porta bene porta bene guarda un problema perfetto allora con questo brindisi vi salutiamo esatto vi invitiamo da noi a presentare con noi il nostro compleanno mi raccomando scaricate il voucher ci trovate sempre su tutti i social seguiteci e ci vediamo settimana prossima grazie a tutti ciao a tutti grazie amori